Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi da Prato 7, l'appuntamento settimanale in cui ripercorriamo le notizie principali degli ultimi sette giorni trascorsi. Iniziamo subito dal lunedì 20 marzo con la nuova palazzina dell'ospedale, il Tar boccia il ricorso della Nigro Costruzioni. La gara dell'Asle è corretta a maggio, ruspe in azione. Sentiamo i dettagli. Nessun vizio di forma, la gara d'appalto per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano è corretta e ad eseguire i lavori sarà la vincitrice, la ditta NBI di Roma. Questo in sintesi è il pronunciamento del Tar su ricorso presentato dalla seconda classificata, la Nigro Costruzioni di Prato, che aveva impugnato l'esito della gara di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale, contestando diversi aspetti rispetto all'affidamento dell'Asle Toscana Centro. Tutti i punti sollevati dalla Nigro Costruzioni, tra cui figurano i dubbi su disciplinare di gara, costo della mano d'opera e composizione della commissione, sono stati rigettati. L'azienda pratese dovrà pagare anche le spese processuali alle due controparti, Asle e NBI, per un totale di 10.000 euro più gli accessori di legge. La sentenza sgombera quindi il campo da ogni fraintendimento. La costruzione della nuova palazzina da 20 milioni di euro, con i suoi 112 posti letto al servizio dei dipartimenti di salute mentale, medico e oncologico, può entrare nel vivo e diventare realtà entro la fine del 2025 nell'area del Santo Stefano. Entro la metà di aprile si procederà con la firma del contratto con NBI, entro il 10 maggio la consegna dei terreni e sempre a maggio entreranno in funzione le ruspe per erigere la nuova struttura sanitaria. La parte burocratica era già stata espletata nelle scorse settimane, dato che il TAR aveva rigettato la richiesta di sospensiva della procedura da parte della Nigro Costruzioni. L'Asle è quindi andata avanti con l'iter, visti anche i tempi stringenti e certa della propria correttezza. Intanto la Nigro Costruzioni annuncia battaglia e conferma di voler portare le proprie ragioni all'attenzione del Consiglio di Stato, scelta che non pregiudica l'andamento dei lavori al Santo Stefano. Continuiamo a contestare la giudicazione dell'appalto rispetto alle reali offerte presentate, spiega la ditta, che storce il naso anche rispetto all'atteggiamento dell'Asle. Nonostante ci fosse un ricorso pendente al TAR, spiega la Nigro, in pochi giorni l'Asle ha voluto annunciare a mezzo stampa la decisione di affidare il cantiere e ha dato evidenza al sopralluogo effettuato assieme all'impresa affidataria dei lavori, una modalità poco rispettosa nei confronti della nostra azienda. Qualcuno ha già dimenticato quanto accaduto in piena pandemia Covid con la Nigro Costruzioni. Rimarca ancora la ditta, impegnata a tempo di record a realizzare le ali del Santo Stefano. Caos traffico per i lavori appoggio, Pugelli attacca la provincia che interviene per ridurre i disagi guardati. Traffico in tilta appoggia a Caiano a causa dei lavori di riasfaltatura della strada provinciale 11 iniziati questa mattina e il sindaco Pugelli attacca la provincia. Quello che è accaduto è inaccettabile, ha scritto in un post il sindaco del comune Mediceo, peraltro fino a novembre gli stesso presidente della provincia. Qualcosa chiaramente non ha funzionato. Sono il sindaco e quindi tocca a me chiedere scusa per i disagi anche quando i lavori sono fatti da un altro ente. Ma vi assicuro che sono arrabbiato quanto voi, ha scritto Pugelli, non lesinando i punti esclamativi nel suo messaggio. I lavori riguarderanno fino a venerdì 31 marzo la rotonda tra Via Aldomoro e Via Ardengo Soffici e si inseriscono all'interno del percorso di riqualificazione della rete stradale provinciale. Hanno dunque la provincia come ente appaltante. Il presidente Simone Calamai si è recato sul posto per fare un sopralluogo e trovare insieme alla ditta delle soluzioni che reducano i disagi per i cittadini. Insieme alla ditta incaricata dei lavori, ai nostri tecnici, al comune di Poggio a Caiano, sono stati individuati degli accorgimenti per i prossimi giorni in modo tale che si possa comunque ridurre in modo in più importante quelli che sono i disagi di questi lavori, in particolare a seguito dell'asfaltatura binder di buona parte della rotonda entro la giornata sarà possibile entrare direttamente in Via Soffici e dirigersi in direzione come Ana dalla rotonda stessa nella giornata di domani, di martedì, mentre il giorno di mercoledì è stato previsto per l'asfaltatura dei tappiti, di poter iniziare i lavori in orari più tardi rispetto agli ingressi relativi alle scuole e a quello che è il mondo del lavoro. Se il presidente della provincia evita di rispondere al fuoco amico, a ribattere a Pugelli ci pensa al centro-destra con la consigliera comunale della Lega di Letta Bresci che afferma di trovare allucinante nel vedere che un sindaco si trincerà dietro al fatto di non sapere nulla dei lavori e di quello che causeranno se iniziati di lunedì mattina e la consigliera carmignanese Angela Castiello che chiede direttamente a Pugelli su Facebook se da primo cittadino non sapesse che i Puggesi attraversano quelle vie per raggiungere gli istituti scolastici. La prefettura fa un appello per un centro di accoglienza per minori non accompagnati ma i comuni rispondono picche. Sentiamo perché. Una struttura appositamente dedicata all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è la richiesta che la prefettura, secondo indicazioni ministeriali, ha girato ai sette comuni della provincia di Prato in occasione dell'ultima riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I comuni per varie ragioni hanno risposto negativamente all'invito. Si va dalle ragioni politiche del capoluogo che afferma di avere sempre rigettato l'idea di un cast per minori e di aderire ad un progetto di accoglienza diffusa a quelle più economiche della Val Bisenzio visto che i comuni sarebbero stazioni appaltanti per la gestione di tali centri con la promessa di un successivo rimborso da parte dello Stato mentre Montemurlo non ha chiuso totalmente ma ha chiesto approfondimenti. Ma le richieste del prefetto ai sindaci non si sono fermate qui dato che servono anche nuove strutture per l'accoglienza dei richiedenti asilo che attualmente sono 350. Ma noi non sappiamo esattamente quale sarà il flusso del prossimo futuro dei migranti certamente il tema è all'attenzione del governo e quindi di conseguenza noi dobbiamo predisporre i servizi per eventuali situazioni di emergenza che dovessero ancora riproporsi. In questo momento i centri che abbiamo sono già quasi diciamo saturi quindi per ovvie ragioni di precauzione tant'è che abbiamo fatto un bando proprio per questo estendere un attimino l'ambito dell'accoglienza. Sono stati rinnovati anche i patti per la sicurezza tra prefettura e comuni. In questo ambito sono 58 le nuove telecamere che arriveranno nei vari comuni tranne Prato che ha già esaurito nel 2022 il budget previsto dal Ministero per l'implementazione della videosorveglianza. Infine un capitolo a parte è riguardato il fenomeno del bullismo a scuola. In seguito ad un episodio verificatosi un mese fa con uno studente di una scuola media pratese che ha portato un coltello in classe il prefetto ha convocato una riunione con il referente della rete dei dirigenti perché famiglie e presidi vigilano sui comportamenti dei ragazzi e siano eventualmente inaspriti i regolamenti scolastici ha detto Cogode che è escluso un fenomeno baby gang a Prato. Torniamo ad occuparci della morte di Luana Dorazio via al processo per il manutentore il giudice nega il dissequestro del macchinario chiamati a testimoniare anche i titolari. Si è aperto questa mattina il processo a carico di Mario Cusimano manutentore esterno della ditta dove il 3 maggio del 2021 rimase uccisa in un infortunio sul lavoro Luana Dorazio 22enne madre di un bambino. Cusimano è l'unico imputato per omicidio colposo e omissione delle cautele antinfortunistiche dopo che i due titolari dell'azienda Luana Coppini e il marito Daniele Faggi hanno patteggiato la pena per gli stessi reati venendo condannati rispettivamente a due anni a un anno e sei mesi con sospensione condizionale. Stamani Cusimano difeso dall'avvocato Melissa Stefanacci non era presente in aula c'erano invece la mamma e il padre di Luana e l'ex fidanzato. Prima dell'avvio del dibattimento è stata esaminata la richiesta avanzata dal legale dei due titolari della ditta, l'avvocato Mercuri che ha chiesto il dissequestro del macchinario nel quale rimase incastrata Luana perdendo la vita il macchinario attualmente è smontato e sotto sequestro all'interno della ditta. Il pubblico ministero Uniti ha espresso parere favorevole mentre le parti civili, INA, il ANMI, il Femme Cacis dai genitori di Luana si sono opposti. Nessuna opposizione è arrivata dalla difesa di Cusimano il giudice del Vecchio ha negato con riserva la richiesta di dissequestro riservandosi di analizzare gli aspetti tecnici legati all'eventuale esigenza di ulteriori approfondimenti sul macchinario. L'accusa è poi passata all'esame della lista dei testimoni chiedendo di escludere i due titolari che hanno già patteggiato oltre al vigile del fuoco che ha intervenuto per primo nella ditta il giorno della tragedia al medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di Luana. Le parti civili hanno invece insistito sull'esigenza di chiamare a testimoniare anche i due titolari. Il giudice ha consentito a non chiamare a testimoniare il medico legale il vigile del fuoco che ha redatto la relazione del primo intervento mentre ha ammesso Fagge e Coppini. La prossima adienza è fissata per il 10 gennaio 2024 quando saranno ascoltati i tecnici dell'ASL e l'ingegnergini il consulente della procura che ha effettuato la perizia sul macchinario. E adesso la riforma del 118 che fa tanto discutere perché l'ASL vuole tagliare l'ambulanza medicalizzata nei comuni medici c'è i pugeli e prestanti però non ci stanno e si dicono pronti a ricorrere al tarre. Non ci stanno e sono pronti a ricorrere al tarre i sindaci di Poggio a Caiano e Carmignano contro la revisione del 118 allo studio dell'ASL Toscana Centro. La bozza di lavoro predisposta per attuare la delibera di giunta del dicembre scorso conferma i tagli già attuati a Vaiano e Montemurlo e ne prevede di nuovi con l'eliminazione dell'ambulanza con medico a bordo attualmente presente 24 ore su 24 nei comuni medicei che sarebbe sostituita con ambulanze di primo soccorso composte da volontari. Francesco Pugelli ed Edoardo Prestanti denunciano di non essere mai stati coinvolti per un confronto e si fanno portatori della preoccupazione per la salute dei cittadini. Secondo i due sindaci il nuovo assetto ipotizzato non è conforme ai requisiti minimi fissati dalla normativa regionale e dalla legge nazionale. In particolare sarebbe a rischio la presenza di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti e non sarebbero state tenute nella giusta considerazione alcune zone di particolare difficoltà di accesso in un'area quella pratese dove già con la configurazione attuale secondo la stessa ASL risulta critica la risposta alle frazioni di Tavola e San Giorgio a Colonica oltre che al comune di Cantagallo. Prestanti e Pugelli intendono portare alcune proposte alternative su cui lavorare. Penso all'evoluzione con l'automedica piuttosto che per certi versi può rappresentare anche un'evoluzione e quindi garantire anche una maggior sicurezza rispetto all'ambulanza medicalizzata sui territori. Penso all'ambulanza infermeristica dove oggi gli infermieri sono professionisti di grande livello capace anche di trattare in completa autonomia alcune patologie e perché no magari contestualmente anche portare avanti il punto di primo soccorso che rappresenta comunque un presidio che nel nostro territorio c'è e deve essere salvaguardato. E infine voglio citare la Casa di Comunità qui appoggio che il PNRR arriverà alla Casa di Comunità che sarà un presidio di riferimento non solo per i territori medici ma a Prato Sud e anche oltre. Ecco, lì sarà un'occasione e sarà un luogo anche dove poter organizzare e mettere insieme tutte queste soluzioni. Questa è la volontà su cui vogliamo lavorare ma non solo in un'ottica campanilistica ma anche nell'otta di riaprire la discussione dopo le vicende abbiamo visto anche della Vallata e di Montemurlo quindi una visione più globale. Ovviamente se non saremo presi in considerazione se non sarà data ascolto alle nostre istanze così come prevede la normativa regionale e così come abbiamo fatto anche in altri casi siamo disposti anche ad advenire alle carte bollate cioè a fare un ricorso al TAR a tutela della salute dei nostri cittadini. Carenze di organico in tribunale Ennesima Beffa arrivano solo tre dei sette funzionari annunciati. Ennesima Beffa per la questione della cronica carenza di personale amministrativo al Tribunale di Prato dove le scoperture di organico raggiungono il 40% ed hanno già portato alla paralisi di alcuni uffici. Lo scorrimento delle graduatorie di un concorso nazionale come annunciato dal capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Alberto Rizzo tre settimane fa avrebbe dovuto portare a Prato sette nuovi funzionari ma soltanto tre persone hanno accettato la destinazione ed oggi hanno preso servizio due in tribunale ed uno in procura. In pratica come spiega il rappresentante giustizia della funzione pubblica CGL di Prato Walter Vizzini i posti resi disponibili in tutta Italia erano 603 ma le assunzioni previste erano di meno 541 così le sedi di lavoro meno appetibili non sono state coperte mentre sono stati tutti assegnati i 18 posti di Firenze i 5 di Livorno e Lucca per fare altri esempi in Toscana. Continua a perdurare il circolo vizioso in base al quale gli uffici giudiziari pratesi sono considerati sedi più che disagiate per il personale amministrativo questo comporta che i nostri uffici siano sempre l'ultima delle scelte per i vincitori di concorso che intendono trasferirsi in Toscana i quali ovviamente preferiscono indicare sedi dove i carichi di lavoro sono più ragionevoli così afferma Walter Vizzini che torna a sollecitare la politica affinché siano utilizzati rimedi straordinari ad hoc per risolvere problemi straordinari come quello di Prato da anni cerchiamo di farlo capire alla politica locale agli ordini professionali e a tutti gli altri soggetti che come noi hanno interesse a che il nostro territorio disponga di un sistema giustizia degno di questo nome afferma Vizzini che torna a chiedere l'istituzione di un tavolo politico permanente che si ponga come obiettivo la risoluzione della carenza di personale amministrativo giudiziario a Prato Narcotraffico e prostituzione 47 arresti a Prato la cellula madre dell'organizzazione La Cronaca Era a Prato la cellula madre della struttura criminale specializzata in traffico di droga e sfruttamento della prostituzione le misure cautelari messe dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della direzione di stretto l'antimafia riguardano 47 cittadini cinesi filippini ed italiani indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione nello specifico sono state disposte 19 custodie cautelare in carcere 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora la struttura criminale aveva anche una cellula satellite a Roma sono stati proprio i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Centro a condurre l'indagine raccogliendo e sviluppando le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità cinese a capo dell'organizzazione c'erano donne che imponevano agli affiliati rigide regole di comportamento ogni consegna di droga veniva sotto il controllo della capocellula di Prato vertice di fatto di tutta l'organizzazione la quale per i carichi diretti a Roma aveva imposto sia la responsabile della cellula romana che ha fornitori cinesi presenti in Grecia il pagamento di un vero e proprio dazio di un'era a testa da versare direttamente a lei per ogni grammo di stupefacente introdotto in Italia il gruppo poteva fare affidamento su un canale di approvvigionamento con la Grecia potendo contare sulla presenza sul territorio ellenico di due connazionali cinesi destinatari di mandato di arresto europeo capaci di far arrivare in Italia ingenti quantitativi di stupefacenti attraverso corrieri imbarcati su voli di linea oppure tramite spedizioni postali internazionali proprio seguendo gli spostamenti dello stupefacente gli inquirenti hanno raccolto elementi indiziari che fanno presumere che parte della droga non venisse rivenduta a terzi ma utilizzata dalla cellula romana per rifornire una discoteca nella periferia sud-est della capitale all'interno della quale si ipotizza vi fosse una vera e propria casa d'appuntamenti gestita dallo stesso sudalizio e accessibile solo a clienti di nazionalità cinese l'attività investigativa è partita dopo aver raccolto le dichiarazioni di uno dei rari collaboratori di nazionalità cinese che ha consentito di far luce sulla struttura del sudalizio criminale suddiviso in una cellula egemone a Prato ed un'altra satellite a Roma entrambe le cellule erano capeggiate da due donne dotate di fortissima leadership e capaci di imporre rigide regole di comportamento alle associati nonché abilissime nel gestire l'importazione di droghe sintetiche dalla Grecia dossier immigrazione l'abbigliamento scavalca il tessile del primo settore del distretto dopo il sorpasso del numero complessivo di aziende avvenuto nei primi anni 2000 poi di quello del numero di addetti del comparto nel 2006 adesso è arrivato il terzo primato per il settore dell'abbigliamento a Prato ha superato il tessile anche nell'export di circa 100 milioni di euro nel 2021 il valore delle esportazioni per l'abbigliamento dove operano in gran parte aziende a conduzione cinese è stato di un miliardo e cento milioni mentre quello del tessile di un miliardo lo ha detto Massimo Bressan di Iris ricerche all'interno della presentazione del dossier di migrazione redatto dal centro studi idos intitolato costruire il futuro che si è tenuto alla biblioteca lazzerini la realtà è questa è una realtà che connota ancora in maniera manifatturiera il nostro territorio e questo è un valore importante ma non è più trainata dal settore tessile come lo è stato per un secolo almeno e diventa adesso un distretto se così possiamo dire diciamo un territorio quantomeno che ha due trazioni importanti quella del settore dell'abbigliamento che ormai è prevalente e quella del tessile l'iniziativa era promossa dal comune di Prato insieme alla Caritas Diocesana e alla cooperativa Sara per parlare dell'impatto delle migrazioni nel contesto socio-economico pratese ma anche sanitario con un focus sulla salute mentale e nella scuola la nostra città ha due primati nazionali alla più alta incidenza di stranieri sulla popolazione residente il 24% e degli strudenti stranieri su quella scolastica il 28% dato che sale al 31% alle superiori il tema affrontato è stato quello della dispersione scolastica che secondo la rete dei dirigenti si contrasta con l'aumento del personale e con nuove risorse adesso sono arrivati i finanziamenti del PNRR riconosciuti però solo ad alcuni istituti ma queste linee di finanziamento sono andate solo a poche scuole e sono sicuramente sufficienti a sostenere degli interventi per un biennio ma è un intervento spot cioè non c'è una visione strutturale di lavoro contro la dispersione e di recupero dei drop out di recupero della dispersione costruire il futuro vuol dire pensare esattamente a guardare avanti pensare avanti assieme come sia possibile incrementare ulteriormente queste politiche che hanno reso possibile una forma di convivenza che non è evidentemente perfetta che non è il migliore dei mondi possibili ma che è in grado di attutire l'impatto sulla vita di ciascuno anche delle persone che arrivano non soltanto delle persone che stanno sul nostro territorio può avere una composizione demografica del tutto peculiare come quella che caratterizza il nostro territorio rinchiari delle rette delle RSA fino a 300 euro in più al mese e sindacati sul piede di guerra non bastava l'aumento della benzina dell'energia e di tutti i beni compresi quelli alimentari il 2023 porta con sé anche l'aumento delle rette delle RSA che rischiano di diventare un salasso per pensionati e famiglie non proprio una sorpresa visto che Prato non farà altro che andare a confermare una tendenza nazionale CGL Cisle Will denunciano che i gestori privati delle residenze sanitarie assistenziali stanno comunicando aumenti in parte già avvenuti dal primo gennaio in parte osservabili dal primo aprile sulle quote sociali a carico degli utenti tra i 6 e i 10 euro al giorno vediamo gestori che unilateralmente decidono di incidere sulla quota sociale prevalentemente a carico degli utenti e dei loro familiari per cifre allarmanti dai nostri calcoli si potrebbe andare a un aumento dei costi annuali oltre i 3.500 euro sulla quota sociale senza che il pubblico su questo metta degli incrementi a sostegno le varie a botte di 100 euro su uno stipendio su una famiglia che magari ha dei figli a botte di 100 200 300 euro qui alla fine magari si riesce a mantenere un anziano non è RSA ma si manda a rotoli mutui affitti si manda solo una società i sindacati chiedono più controlli e un maggiore intervento pubblico in quello che definiscono il business delle RSA attualmente sono 18 le strutture operative a Prato per un totale di 850 posti autorizzati ma con una prospettiva di aumento numerico vedi le due che sorgeranno ai lecci segno affermano CGL Cisle Will della redditività del settore i sindacati organizzeranno presso le loro sedi una raccolta firme per modificare la legge regionale 995 del 2016 che prevede che le RSA aumentino le rette in base ad un aumento dei servizi appiglio normativo utilizzato in questa fase dai gestori delle strutture residenziali per giustificare gli aumenti però noi siamo però noi siamo di fronte in realtà al fatto che non si sta assistendo all'aumento dei servizi ma di fatto si cerca con questo aumento delle tariffe di coprire diciamo i costi di funzionamento delle strutture noi non possiamo rimanere fermi e inerti a guardare ma promuoveremo da questo punto di vista una raccolta firme che chiederà alla regione di appunto rimettere mano a una delibera che insomma sta segnando il passo conferenza stampa di fine mandato per il sindaco di Poggio Accaiano Francesco Pugelli che ha fatto un bilancio degli ultimi 5 anni di amministrazione soddisfazione per i risultati ottenuti il 94% del programma dice è stato realizzato si avvicina l'appuntamento con le amministrative di Poggio Accaiano il sindaco uscente Francesco Pugelli traccia un rendiconto ai cittadini sugli ultimi 5 anni di mandato nonostante la pandemia dice Pugelli il 94% del programma è stato realizzato con grande successo il momento del rendiconto è importante perché 5 anni fa tanti poggesi ci hanno dato la loro fiducia e mi sembra doveroso raccontare loro restituire loro come l'abbiamo spesa sono stati 5 anni bellissimi ma intensi di cui 2 anni e mezzo dedicati e interrotti come le vite di tutti noi dalla pandemia ciò nonostante se prendiamo uno per uno i punti del programma di 5 anni fa il 94% di questi sono stati realizzati quindi numeri importanti nonostante un mandato dimenzato e soprattutto tante altre opere che sono venute fuori per opportunità e che non erano incluse in quel programma l'avvio della nuova piazza 20 settembre la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico delle scuole il potenziamento del sistema culturale e turistico e dei servizi al cittadino e alle famiglie sono solo alcuni dei punti cardine di quanto fatto nei 5 anni punti a cui si aggiungono ulteriori attività interventi realizzati ma che non erano nel programma come il recupero della tinaglia al poggetto dalla quale sono stati ricavati non solo appartamenti di edilizia popolare ma anche il nuovo spazio civico intitolato alla memoria di Falcone e Borsellino abbiamo fatto tanti passi insieme abbiamo raggiunto o comunque fatto partire anche alcuni progetti importantissimi di questo mandato cito tra tutti quello della piazza che però è solo il primo di tre passi importanti che cambieranno il volto del centro di Poggio da qui al 2024 e siamo pronti per partire con un parcheggio quello atteso dagli anni 80 almeno della zona di via Pratese e soprattutto la pista ciclabile che partirà dalle Scuderie Medice fino a Comeana lungo Ombrone che riqualifierà anche tutta la zona di Sottombrone quindi per un passo partito ne abbiamo da fare altri due e poi fatemi citare tra gli altri anche la casa di comunità che era uno dei punti importanti del mandato di questi 5 anni siamo riusciti a intercettare fondi PNRR quindi lì non si scherza se entro il 2026 la casa di comunità appoggia a Caiano ci sarà con l'ampliamento dell'attuale distretto che arriverà a circa mille metri avvio dei lavori stabilito da PNRR entro settembre di quest'anno ed è tutto per questa edizione di Prato 7 grazie per essere stati con noi l'appuntamento con l'informazione della nostra rete è per domani alle 13.45 arrivederci e una buona serata grazie a tutti